Ciao ragazzi, bentornati a tutti in un nuovo video. Scusate la penombra ma il sole è tramontato da poco. Allora, Toro Lecce 3-1 è finita un'oretta fa più o meno. Ho cercato di vederla spizziche bocconi, diciamo, lavorando, non mi è possibile. Ed è stata una pena. Sono veramente imbarazzato per quello che ho visto. L'unica cosa positiva è stato il risultato, il fatto di aver passato il turno contro un avversario che non mi è assolutamente simpatico, come penso a nessun tifoso del Toro possa stare simpatico in Lecce. Però veramente una pena, un imbarazzo totale. Pensavo che si potesse dare seguito alla buona prestazione fatta contro il Sassuolo a Reggio Emilia, invece ho visto un'involuzione pazzesca. Sarà che magari non avevano tutta sta voglia di giocare, ma io ho visto una squadra depressa, una squadra assolutamente depressa. La stessa squadra che ha giocato le partite prima della partita di Sassuolo, che pensavo potesse essere uno spartiacque, invece no, no, assolutamente. Abbiamo giocato una partita dove non abbiamo fatto assolutamente nulla. Nel secondo tempo è stato soporifero al 100%. Al primo tempo qualcosina si è provato a fare, ma non ricordo chissà cosa, con il loro portiere non mi sembra che si sia sporcato chissà quanto i guantoni. Noi invece abbiamo comunque rischiato in più occasioni, perché loro andavano avanti e con un avversario secondo me più forte sulla carta avremmo rischiato veramente di prendere un'imbarcata. Invece loro, vabbè, sono quello che sono, però comunque abbiamo rischiato parecchio. Poi sono andati in vantaggio al primo tiro che hanno fatto e vabbè, noi poi abbiamo rimediato con Bianco. Nel secondo tempo, appunto, come dicevo, un sonno totale. Nel secondo tempo supplementare invece ci siamo svegliati leggermente. Verdi, vabbè, diciamo che lì c'è stato grandissimo merito da parte di Rossettini che ha lisciato una palla che ha permesso poi di andare avanti e dognarci un rigore che Verdi appunto ha siglato. Poi dopo due minuti c'è stata un'incomprensione su una punizione di secondo da parte del Lecce. Noi siamo partiti in contropiede e gli abbiamo fatto il 3-1, sempre Verdi che tra l'altro è stato secondo me uno dei peggiori. Non mi è piaciuto assolutamente. Sarà che da uno che è stato pagato 25 milioni mi aspetto sempre tanto. Invece lui continua tutte le volte a deludermi sempre di più. Mi è piaciuto molto Singo invece. Assolutamente su quella fascia ha fatto il buono e il cattivo tempo. Ma direi solo buono, buon tempo perché è veramente, veramente positivo. Questo ragazzo mi è piaciuto moltissimo, spero possa crescere sempre di più perché ha grandissimi margini di miglioramento. Secondo me se migliora ancora un pochettino di più nel controllo di palla potrebbe diventare veramente un buonissimo calciatore. Non dico un fenomeno perché vabbè, anche perché poi ce lo strapperebbero. Quindi se diventa forte sappiamo già che il suo futuro sarà lontano da Torino. A parte questo ragazzi, che dire, non mi sono piaciuti assolutamente. Un clou veramente negativo e poco altro. Cioè Goyac speravo potesse fare qualcosa, invece è stato impalpabile. Se si esclude un buon assist per Bonanzoli nel primo tempo che poteva permettere a Bonanzoli di segnare, nel secondo tempo non l'ho visto, ma come non ho visto la squadra. Arrivavamo lì, abbiamo praticamente provato 170 volte i cross tra la tre quarti, cross telefonati che andavano sempre tra le braccia del portiere, quindi totalmente inutili, perché se provavamo a fare qualcosina in più loro comunque si difendevano in sette ed era impossibile cercare di scardinare la difesa. Vi ripeto, va benissimo il risultato, il passaggio del turno, che non mi si inventino poi le scuse domenica dicendo che sono stanchi o cose, dato che hanno giocato 120 minuti, perché assolutamente non reggeranno queste scuse, dato che prima vi siete lamentati del fatto che non avevate i minuti sulle gambe, adesso gli avete messi i minuti sulle gambe, non potete lamentarvi. Quindi mi aspetto una prestazione decente, almeno contro la Lazio, ma so già che non arriverà. E poi vedremo, il prossimo turno affronteremo Lentella in Coppa Italia, vedremo come andrà, non mi aspetto assolutamente nulla tanto dalla Coppa Italia. Poi potremmo ancora magari passare il turno contro Lentella, ma se giochiamo di nuovo così la vedo dura. Ma poi, vabbè, al primo avversario serio che incontreremo sappiamo già che il nostro destino sarà segnato, che usciremo. La Coppa Italia è una delle competizioni più stupide in Europa, quindi non mi aspetto assolutamente niente. Comunque, ragazzi, questo è tutto. Io vi saluto, vi lascio poi... Vi saluto e ci sentiamo poi per il prossimo video per la partita Toro Lazio. Grazie a tutti e ciao! Ciao!